500 litri di latte o vino sversato nell'area esterna dell'ex Fienemaia Vittoria, una protesta unitaria a quella dei pastori e dei serricoltori della fascia trasformata del Ragusano. Inizia così la settimana di mobilitazione che vedrà in Piazza del Popolo a Vittoria la presenza delle forze produttive del mondo economico ebleo. I pastori insieme ai serricoltori chiedono un prezzo equo. Quanto pigli? Non pigliamo niente. La loro pollo. Con questo piatto non si accattano ma la loro pollo si accattano. Potremmo continuare in questa situazione? Non potremmo continuare. c'è il latte a 40 centesimo, a questo signore lui che ci fa un 40 centesimo il latte, compresivo. Può campare questo cristiano a 40 centesimo con il latte? Non può campare. A me personalmente mi fa un 80, però c'è il latte 40, il latte 50, il latte 60, il latte 70, il latte 80. Ma è anche giusto che fosse tutto uguale. Io sono un produttore e abbiamo gli stessi problemi identici ai pastori perché noi il prezzo ce l'impongono loro come il latte e come nel cileggino. Io ho il cileggino e lo vendo da 50 a 60 e sono sotto costo pure. I problemi ne vengono tutti dalla stessa strada perché ci importano il latte e il cileggino dall'estero. E quello è un grandissimo problema perché poi i prezzi nostri non ci possiamo paragonare con il marocchino, con i tunesini o il latte ce lo portano dalla Romania perché i costi di produzione sono diversi. Allora ci deve tutelare lo Stato, ci deve tutelare i nostri governanti, se no non si può andare avanti. Siamo destinati tutti a morire, i produttori e i pastori perché è sempre agricoltura e l'agricoltura non è tutelata niente. Per fare la dosatura ci vogliono 2 euro ogni animale, ogni capo, un chilo di lana e 20 centesimi. Quindi vi rendo l'idea, è regalata, è senza soldi, è un lavoro che si deve fare per forza, quindi siamo a terra completamente. Tanti quintali di lana buttata. Oggi per l'ennesima volta dimostriamo che la filiera agroalimentare italiana va riformata, dimostriamo ancora che le agromafie non mollono l'osso, dimostriamo ancora la speculazione sulla filiera della grande distribuzione organizzata perché questa battaglia è una battaglia che deve accomunare tutti. Questa è una battaglia che non possiamo tralasciare considerando che oggi ad esempio al mercato di Vittoria un chilogrammo di ciliegino costa 70 centesimi. Vado nel supermercato della grande distribuzione organizzata dietro l'angolo a Vittoria, dopo che questo ciliegino ha fatto 1.200 chilometri di andata e ritorno lo troviamo a 5 euro al chilogrammo. La domanda è sempre la stessa, chi lavora, chi zappa la terra, i braccianti, le piccole e medie imprese sono tutti morti dietro anche quei scellerati accordi che la politica tutta dice di voler rivedere l'accordo d'esempio Euro-Marocco per le norme di salvaguardia, ma non mettono mai mano, fanno solo degli spot al solito, quindi la lotta in questo caso è una lotta naturalmente democratica, una lotta di civiltà. Qui nel nostro territorio purtroppo io devo manifestare che c'è la mancanza di mobilitazione, questo è un popolo quasi rassegnato che non riesce a portare avanti quelle che sono le sue problematiche. Noi viviamo una crisi tremenda oltre alla pastorizia che io vedo che Vittoria oggi è riunita, è un fatto assolutamente nuovo per Vittoria, ma noi come attività principale siamo legati alla serricoltura e vedo purtroppo che i nostri agricoltori non hanno questa capacità di mobilitazione che hanno dimostrato i pastori sardi. Se il problema non lo solleviamo noi, noi che siamo i diretti interessati, come potete si può pensare che poi il ministro o l'Europa in modo particolare possa interessarsi a queste problematiche? Beh intanto questa ha una sua autonomia all'interno delle iniziative che stiamo assumendo per rimettere in moto la mobilitazione dei produttori e in questo caso anche dei pastori che per il territorio è una novità questa perché io non mi ricordo che siano state nel passato iniziative dei pastori, ma la vicenda sarda ha messo alla luce un disagio grande che riguarda non soltanto la pastorizia o vicaprina, gli allevamenti in generale anche della zootecnia classica, storica e gli iblei lei sa che sono una terra di zootecnia che ha avuto anche problemi per quanto riguarda il prezzo di vendita del latte, sempre c'è stata questa storia e gli allevatori e i pastori sono deboli, ora è tragedia, ora non si riesce più a vivere, non hanno forza contrattuale, non hanno possibilità alternative, non c'è tutela del prezzo minimo garantito e i pastori sollevando in Sardegna questo problema che non si risolve con un po' di aima che stanno facendo, insomma parliamoci chiaro, come risposta palliativa, pre-elettorale magari, ok, può andare, ma non è la risposta, questi sono meccanismi che bisogna mettere sul tavolo e non è la risposta imista di Salvini che può essere la soluzione, la soluzione è in una modifica profonda della PAC in cui l'idea di abbandonare i prezzi al loro destino perché il libero mercato è quello che decide, è un'idea folle, miliardi di euro vengono stanziate per cacciare la piccola e media azienda agricola dalle campagne del mezzogiorno, dare soldi a grandi gruppi e a poche aziende che si afferrano metà dei soldi previsti per i bandi comunitari, i piccoli non ci arrivano mai, scompaiono dalla scena o muoiono di stenti, come è il caso della pastorizia o dei produttori di pomodorino, di ciliegino, di datterino che debbono vendere a 60 centesimi prodotti che per produrli soltanto ci vuole un euro. Perché non si fanno rilevazioni statistiche sui costi medi di produzione? Perché non si parte da lì per tutelare la vita di centinaia di migliaia di famiglie che sono invece schiacciate dalla grande distribuzione organizzata e dal mercato dei trasformatori che fanno i loro interessi, anche se poi arrivano soldi per fare gli impianti dove c'è scritto nei contratti che lo Stato li aiuta a fare gli impianti industriali a patto che attingano il prodotto dal prodotto nazionale, locale. E questo avviene a convenienza, come vogliono loro, una volta sì, a intermistenza, come i semafori sfasciati quelle che non puntano, una volta rosso, una volta giallo, una volta verde, in seguito. E così la gente muore, non può vivere e non è giusto. Questa è una battaglia giusta che arriva a Vittoria, noi siamo con loro. Vittoria ha un valore perché è una città di lavoro forte. Io sono ritornato indietro negli anni e vedevo questa gente ancora con la stessa tenacia, la stessa forza, ma ci vuole la legalità vera, quella che dice che quello deve essere rispettato e il prezzo minimo garantito non è un vagheggiamento di gente che non capisce niente. È il pilastro che manca nella politica agraria comunitaria che si deve fare per i pastori a cui devono assicurare il prezzo del latte e vediamo se continua, se dopo le elezioni sarde questa cosa la tengono oppure tanto perché chiamo a fare tanti città di provolazio. Questo sarebbe gravissimo, io spero che non avvenga.